Non intuire nemmeno. Molti filosofano nei confronti della realtà in cui siamo immersi per giungere a delle conclusioni atte a farci vivere meglio, ma non ci riescono. Perché? Commento. Per due motivi. Perché in molti affrontano la realtà con una mente primitiva e in pochi la affrontano con maggiore intensità, ma sempre razionalmente. Sia i molti e sia i pochi girano vortigosamente con la mente intorno ai supremi principi dell'essere che continuano a non intuire nemmeno.